RIPRINCI Andiamo la nostra riflessione domenicale in questa bellissima chiesa, anche se piccola ma così significativa, di San Mamete in Mezzovico. Siamo alla seconda domenica, dopo Natale, e la liturgia è imbastita in un affresco teologico estremamente significativo e bello. Io tenterò di spiegarla con parole semplici, ma è come, sapete, come andare a vedere la Cappella Sistina in Vaticano, questa enorme scenografia che ci mette davanti la rivelazione, e che uno rimane stupefatto in una maniera traboccante, tanto ogni tassello dice qualche cosa del mistero di Dio. Ecco, mi sembra che le letture della domenica, di questa domenica, siano esattamente queste. Allora, ci troviamo di fronte alla prima lettura dal libro sapienziale del Siracide, e ci parla di una sapienza che però, se lo leggete bene, è una sapienza che prende forma, quasi una forma umana che si muove, che prende iniziativa, che parla. È una sapienza che ad agio ad agio prende un volto e, appunto, fino ad essere una persona che pianta la sua tenda in mezzo al suo popolo. È la sapienza diventata persona e desidera abitare in mezzo ai figli dell'uomo. Non è forse un anticipo, un preconio quasi, di quello che dovrebbe essere il logos eterno del padre, il figlio di Dio, che, come dice il primo capitolo del Vangelo di Giovanni, volle porre la sua tenda tra noi. La seconda lettura è tratta dalla lettra di San Paolo alla comunità di Efeso. È un inno dove il mistero di Dio è articolato in tutta la sua complessità. E dice una cosa importantissima che dovremmo tenere ben presente, che il figlio di Dio è stato pensato dal padre come colui che ha l'origine e il principio e la consistenza di tutte le cose. Se dovessimo tenere presente questo, che Cristo è il significato di tutto, allora, come cristiani, non potremmo vivere, non potremmo operare, non potremmo prendere iniziative, non potremmo abbracciare ed esprimere tutti i nostri sentimenti se non a partire da questa umanità che il figlio di Dio ha preso su di sé, ma che l'ha divinizzata quasi a portarne al suo ultimo destino.